That's my house! That's my house! Come la sua casa? No! Va a spacca la casa! Nulla! Lus, no! Come? E anch'io! Allora... E raga, lo so... Lo so cosa state per dire... Sì... L'intro è una merda... Lo so... Ma non si può fare nulla in fondo, no? E... Oh, se andiamo a riuscire al noto youtuber... Anche chiamato... Ice No Speed... Speed, in pratica... E... Beh, è una parodia di... Speed, praticamente... Ehm... Io ora non voglio perdermi in chiacchiere... Io direi di andare subito al video... Vi dico soltanto di... Iscrivervi e attivare la campanella... Per non perdervi le altre notifiche del canale... Bando le esanze... Io direi di iniziare... Ah, comunque... Ehm... Lo so che mi state... Ora mi avete anche chiesto... Uno di voi mai l'ha chiesto... Ravens of Void è annullato... Quindi... Scusate, lo sto nascendo proprio... A ritardo di un mese... Due mesi... Ma... Questi sono dettagli... Tutti sono dettagli... Allora... Ehm... Oh... E' partito... Dai, so... Non è appena iniziato... Manco due secondi... Subito cade roba strana... Allora... Oh... Ehm... Le be' testa... Vabbè... Ma guardate... Quello... Quello è lo speed... Quello è speed, raga... È speed... Tu? What? Quello è speed, raga... No, mi diceva solo quello che ho detto... Comunque... Sottotitoli... Perché... Comunque sta a piani... Dai, dai... Ti rompete a starò... Sì, per favore... Sì, è serio, bro... Ben? No... Vabbè, si abbrassano, dai... Molto... Va bene... Mi fa troppo... Oh... Ah, non so se... Ma che cavolo ha detto? Non lo so... Ma a caso poi, raga... A caso... A caso poi... Non posso... No... No... Perché... Applausi... Non sono applausi, YouTube... Tom Holland... Spider-Man... Peter... Poco... Ma perché? Perché? Ah... Se no, te mi hit... Troppo bella sta roba, raga, però... Ma poi che senso tiene? Non si capisco... Oh... I figli di Thanos... No... No... No, raga... No... Questo... Questo animale chiacchierone... Parla per te... No... Eh... Si credo... No... Va bene... Oh... Speed... Speed... Eh... Madonna... Eh... Ah... Ah... Oh... Beh, davvero, ho fatto molto bene sta roba... Eh... No... Allora... Scommetto... Che si... Che si schienterà... Da qualche parte si... A farà male perché... Io... Ho visto tutti i video... E... Dato che vedendo questo... Vedendo questo... Oh... Oh... Mi sa che farò un incidente... Come la sua casa... No... Fa... Facca la casa... Nulla... No... Dove si fanno a perdere a questo posto, ragazzo... Non appartiene a questo posto... Ciao Bruce... No... Come... Come su Tinder... Ma cosa sta a dire, raga... Cosa sta a dire... Questa è imbarazzante... Lo so che è imbarazzante... Dark knock... Dark knock... Dark knock... Oh... 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 Ho fatto... Anche qua è fatto bene... Mi spaventerei anch'io... Ho capire la lore... Di sta... Di sta roba... E' gay... Non sapevamo che eri gay speed... No... Scusate se... Non sapevamo che eri gay speed... Lo sapevamo... Comunque... Comunque... Non so perché... Mi sento molto cattivo con speed... Perché... No... Ma per questo cosa cavolo sto a dire... Ma... Ma questo video sta andando più merda del solito... Madonna... Vabbè... Ma... Ma... Perché... Piensa raga... Che cavolo sta accadendo... Non cattivare... Ma... Ma... Perché... Ha insultato... Holland... No... No... Raga... Per favore... Ma... Per favore... Ma... Ma... Si... Ma... Che cavolo... Oh... Vai speed... Vai speed... Good boy... Good boy... Ammi dio... Ma... Che cavolo... Sto mini... Sono brutto... Ma... Che cavolo... Comunque... Non ho capito... Ma... Da quello che ho capito... Lui non sa da che parte stare... Perché... Prima sta da Thanos... Prima da loro... Prima da Thanos... Prima da loro... Non ha senso... Tu... Guarda... È confuso... No... Perché... Eh... Lo sa... Bene... Skip... Perché... Ma... Ma... No... Io non ho capito una cosa... Ma... Se ne stanno due... Oppure uno... Non ho capito... Quanti speed si stanno... Perché non ho capito... Da un'altra starla... Da un altro... Ma che cavolo... Stai... Stai... No... Oh... Bene... No... Ma... Ma... Perché... Stai... Non ha senso... No... Questa roba... Non ha... Assolutamente un... Non ha senso... Stop talking... Stop talking... Stop talking... Speed a un bull... No... No... L'ha plecata... Molto... Molto bello... Perché ora... Si è stato... Sto... No... No... Io che do gli occhi... Ma... Si credo... Ma... Ma cosa... Ma cosa accade... Perché adesso... E... 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 Ma... No... 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 Ma da quando è accaduta sta roba... No... Ma perché... Ma perché... Cavolo... Stai disendo... Non lo so io... Stai... Ma... Non lo so io... No... E... Sì... Ma... Ma... Perché... Perché... La insulta... Non ha senso ancora... non ha senso dai ma che è il problema perché queste cose ma perché godo godo ma perché ma non ha senso cosa security che tu non mi puoi dire che si sta lui che balla con la manietta del burger king non ha senso comunque davvero ha rotto la videocamera va bene ma guarda quanto è brutto scusate se l'ho detto brutto però raga in questo momento ma non ha senso ancora non devi stare qua ma perché non ha senso quello che dice sta pure a piana è bullo non c'è tipo qualcosa che si anche dai 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 ma perché chi perché laura è black band speed cosa si deve dire eh ovviamente lui è sconvolto si è sconvolto si credo perché cazzo ma perché fa queste domande oh la battaglia finale eh non è spaventoso su dance anche qua la quello che ha detto eh aveva senso quello che ha detto però eh la madonna ma perché perché devi urlare sei su oh ma perché ma perché ha manato a fanculo speed ma è meglio che gli dona pure però ma che cazzo nooo ma cosa gli prende si è sconvolato ma perché oh dai Thanos vincere di sicuro contro uno dopo me come lui dai dai pop eh cosa cosa no se mia mera no no ma cos'è ma cos'è perché e poi ho sfocato mamma mia pure e poi ci sono le ultime parole a quanto pare ok ok oh oh you would die one day in life you will succeed attenzione one day in life oh high snow speed no 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 se si credo allora la prova che high snow speed ha un cuore Ti endo Io vedo che Però vedo qua Che si sta anche la serie di Squid Game E quella di Spider-Man Quindi ditemi voi Volete altri video di Speed? O meglio Di questo canale che si chiama Mitty E' un grande fan di Speed Ditemi voi Volete la parte 2? Si? Oh no Bene Si vediamo in un prossimo video E Bye bye Questo video è venuto un bel po' a merda Ma Fatto con i piedi Ma Questi sono i dettagli Questa è la storia di un uomo Che cade da un palazzo di 50 piani Mano a mano che cadendo Passa da un piano all'altro Il tizio per farsi coraggio si ripete Fino a qui tutto bene Fino a qui tutto bene Fino a qui tutto bene Il problema non è la caduta Ma la terrazza LE Sì Alla